Buongiorno, solita spuntatina? Sì, grazie, ma rapido perché devo girare uno spot tv sul diabete. Sai che colpisce soprattutto chi ha parenti diabetici, chi è obeso o in sovrappeso? E chi è sedentario. Esatto, ma si può prevenire con un'alimentazione sana ed equilibrata. E anche con una regolare attività fisica. Bravi, ma girate lo spot con me. Prevenire il diabete si può, parlane con il tuo medico.